Congelate le rette per le scuole e gli asili ad Arezzo, questa la decisione presa per il mese di marzo dal Comune che ha subito messo in pratica il piano famiglia per far fronte così ai danni che l'emergenza sanitaria e le disposizioni di prevenzione disposte dal Governo potrebbero recare alle famiglie a retine. Dunque congelate tutte le rette per la frequenza dei bambini ai nidi e alle scuole municipali, le statali invece non prevedono rette. Previsto anche lo spostamento degli investimenti e dei servizi dei centri di urni alla predisposizione di interventi di assistenza domiciliare personalizzata per quelle persone che presentano situazioni di particolare disagio e solitudine. È evidente che dinanzi alle difficoltà economiche e logistiche che i genitori stanno affrontando ci siamo posti come amministrazione un problema di equità e convenienza hanno dichiarato il sindaco Ghinelli e l'assessore Tanti per il mese di marzo. Dunque le rette sono state congelate in attesa di valutare una più ampia moratoria nel pagamento delle stesse e anche dei servizi e delle tariffe. Il piano famiglia prosegue poi con un dirottamento di risorse e impegno dai centri di urni per anziani e disabili ad un piano di supporto domiciliare individualizzato in merito al quale stiamo ultimando i dettagli. Le fasce più deboli della popolazione non vanno lasciate sole, stiamo parlando di 125 soggetti tra anziani e disabili accolti nei centri del comune e dell'asla. Un ulteriore elemento di prossimità nei confronti dei cittadini concludono ci sentiamo di darlo mettendo a disposizione un numero di telefono il 345 0800 400 che non è un numero di emergenza ma di dialogo ci servirà per ricevere messaggi su whatsapp.